...e che siano dislocati nel termine di camera. In questa stanza vediamo l'unico caso in cui un prodotto si è realizzato in questo stabilimento e si tratta di questi mobili di Gaia Orenti. Erano in quadrioletone spazio rigido, che era un materiale nuovo e al tempo le aziende che facevano per cutter non volevano accorrersi il rischio di usare materiale del genere nel registro. Carta però ci trovava così tanto a questo progetto che decise che assolutamente l'ho realizzato e l'ho realizzato questo stabilimento, questa è l'unica fase di passare tra aziende e la successione della regione. Quando realizzati in concessione fiat, c'erano i vari zanitato ieri, c'erano il rosino, il testano. E quindi questa era l'unica fase in cui è successa una fase del genere.